Il 18 dicembre si vota per il rinnovo del Consiglio del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tenagro. Il Presidente Morello ha scelto di non ricandidarsi, il suo mandato giunge quindi agli sgoccioli e tempo di tracciare un bilancio. Certo, siamo qui oggi proprio per questo, cioè per tramite voi che siete gli organi di informazione, comunicare ai consorziati, ai cittadini tutti, quello che l'amministrazione in questo quinquennio ha realizzato per il Consorzio. Io sono molto soddisfatto, devo dire la verità, quindi me ne vado con serenità. Questo Consorzio in questi cinque anni ha prodotto una serie di interventi davvero notevoli. Io mi va qua di citare nel campo dell'irrigazione, abbiamo investito con i fondi europei e con il Piano Irrigo Nazionale cifre che si avvicinano ai 30 milioni di euro in tutta la parte centro-sud del Vallo di Diano e con questi interventi, alcuni già in esercizio, altri in esercizio nella stagione in rigua prossima, arriviamo a circa 6 mila ettari in rigui per il Vallo di Diano, che è davvero un bel risultato. Non dimenticherei anche gli interventi sui principali canali di bonifica che abbiamo realizzato nel 2014, sempre con i proventi del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013, che ci hanno consentito di dare più sicurezza dal punto di vista idraulico al nostro territorio. Se ho un cruccio, ed è l'unico cruccio per la verità, e non per responsabilità del Consorzio, noi abbiamo fatto tutto ciò che c'era da fare e il mancato intervento sul fiume Tanagro. Noi eravamo riusciti ad essere inseriti nell'accelerazione della spesa andando in surroga alla Regione Campania, quindi venendo autorizzato dalla Regione Campania, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero dell'Ambiente e dall'autorità di Bacino, a essere soggetto attuatore di un intervento organico sul fiume Tanagro. Il problema quale? Il problema purtroppo, uso un termine caro al Presidente De Luca, è la palude burocratica. Per ottenere le autorizzazioni necessarie, tra l'altro io ho voluto che la conferenza dei servizi si facesse in prefettura, il vice prefetto all'epoca in forza alla Prefettura di Salerno, il dottor Amandè, che era anche il responsabile della protezione civile, quindi abbiamo convocato una conferenza dei servizi nel novembre-dicembre 2014. Intorno al tavolo c'eravamo 18 soggetti. 17 hanno risposto positivamente, 1 no. la sovrintendenza. Purtroppo ci ha chiesto una serie di correzioni nel progetto che noi avevamo proposto, che ci ha comportato un dilatamento dei termini dell'approvazione. Siamo arrivati al giugno 2015, sostanzialmente in scadenza del PSR. Quindi sostanzialmente quel finanziamento. Non siamo riusciti a concretizzarlo di fatto. Però lascio ai miei successori un progetto esecutivo cantierabile. Io tra l'altro ho continuato a sollecitare anche l'amministrazione regionale. Non ultimo ho trasmesso una nota al vicepresidente Fulvio Bonavitacola, nella sua venuta nel Valo di Diano la settimana scorsa a Sanza, chiedendogli di tenere presente questa situazione di criticità del Fiume Tanagro. E sono fiducioso che coloro che succederanno nell'amministrazione del Consorzio riusciranno senz'altro a portare a buon fine questo intervento, che è un intervento di 6 milioni e 200 mila euro organico sul Fiume Tanagro. Qual è la ricetta che si sente di consigliare al futuro presidente del Consorzio di Bonifica? Il Consorzio di Bonifica, le ricette non ce ne sono. Ogni soggetto ha un suo approccio rispetto alle cose. Io mi auguro che ci sia il coinvolgimento di tutte le parti che stanno concorrendo in questo periodo alla formazione del nuovo Consiglio dei Delegati. Mi auguro davvero che ci sia un coinvolgimento completo di tutte le parti. Il Consorzio, il nostro Consorzio, è un ente sano. Noi abbiamo fatto anche un'azione di risanamento sui conti del Consorzio ed è davvero un privilegio quando ci si rega in Regione esseri accolti. I Consorzi voi sapete che non hanno una bella nomea, molto spesso ha torto perché molto spesso le persone non sanno quali sono le competenze dei Consorzi di Bonifica. In Regione Campania su 11 Consorzi ce ne sono 6 allo Stato commissariati. Il nostro, devo dire la verità, quando ci regavamo in Regione aveva sempre ascolto e veniva anche additato come modello. Quindi questo per me è un orgoglio ed è questo il lascito che noi diamo alla futura amministrazione che ritengo avrà sicuramente le capacità per poter fare l'auspicio mio e che faccia meglio di quanto abbia saputo fare io.